buongiorno oggi siamo qui ad esio in brianza desio famosa perché c'è il noto il più noto farmacista d'italia infatti oggi siamo da lui alberico lemmi mi scusi mi scusi si buongiorno lei sa per caso dov'è il dottor lemmi dove possiamo trovarlo il famoso farmacista delle vive farmacista sì allora sì allora lei deve andare avanti la prima via via giuseppe garibaldi sulla sinistra prosegue 40 metri a destra la prima subito che trova a destra adesso tutte le vie così però le spiego bene sulla sinistra dove trovare proprio il problema eccoci qui lo studio del dottor lemmi come dicevo il farmacista più famoso d'italia o fuori forse del mondo la sua dieta la dieta lemme viene seguita da tutti i vip e non solo e allora scopriamo il suo segreto ciao alberico ci vuoi dire oggi intanto grazie di essere qua con noi con tg in television svelaci un po questo segreto della dieta lemme quindi te lo svelo ma guardi in camera è in funzione ormonale praticamente è un'alimentazione dove più mangi più dimagrisci poi non si calca più le calorie non si pesa più nulla ma mangi secondo il tuo gusto e in funzione ormonale esempio puoi mangiare le brioche a colazione del tuo bar pranzo e cena come dico io giorno dopo hai perso mezzo chilo è qualcosa di favoloso non soffrite la fame mangiate come voi volete io sono reperibile h24 potete chiamare in qualsiasi momento e vi faccio dimagrire promessa da genio e allora come avete capito probabilmente magari anche un genio perché effettivamente tantissimi vengono da lui ma devi solo come dice dottor lemme mangiare 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 qua da desio con il genio che incombe andrea biandrino alberico lemme per tg events